David Parenzo, chi è la compagna Natania Zevi? Il nonno famoso e le nozze mancate. Il noto giornalista è legato ormai da molto tempo alla fidanzata, altrettanto famosa, con la quale ha dato alla luce ben tre figli, scopriamo di più su di lei. David Parenzo è un noto giornalista e conduttore radiofonico italiano, il cui debutto in televisione è avvenuto all'età di 22 anni su Odeon TV. Successivamente, Parenzo è diventato uno dei volti più conosciuti di La7 e ha iniziato a lavorare anche come speaker radiofonico. Negli anni ha collaborato con Rai, Mediaset e molteplici testate giornalistiche. In merito alla vita privata del giornalista sappiamo che è legato da ormai molto tempo a un altro volto noto del giornalismo italiano, ovvero Natania Zevi con la quale ha dato alla luce tre figli, scopriamo di più su di lei. Natania Zevi, nata alle 11 dicembre 1984 a Roma, è una nota giornalista Rai. Dopo la laurea in filosofia e un prestigioso master in giornalismo alla Columbia University di New York, Natania ha iniziato a lavorare al Wall Street Journal, per poi approdare in Rai alla conduzione del programma Agora. Ed è proprio grazie a questa trasmissione che, nel 2015, Natania ha vinto il premio Biagio Agnes. Successivamente ha iniziato a lavorare nei telegiornali regionali Rai, per poi approdare al Tg3, dove per anni si è occupata in particolare di politica. Nel 2007, Natania ha pubblicato il suo primo libro Ti racconto la mia storia. Dialogo tra nonna e nipote sull'ebraismo, scritto a quattro mani con la nonna, Tullia Zevi, nota giornalista e scrittrice italiana di origini ebraiche. Ma Natania può vantare anche un nonno particolarmente famoso, ovvero Bruno Zevi, storico architetto, urbanista, critico d'architettura e politico italiano. Insomma, una famiglia che, in modi diversi e in tempi diversi, ha indubbiamente fatto la propria parte nel panorama dell'attualità e della cultura italiana. David Parenzo e Natania Zevi, la scelta di non sposarsi e i tre figli. David Parenzo e Natania Zevi stanno insieme ormai da molto tempo, ma i due non sono mai convolati a nozze. Dal loro amore sono nati però tre meravigliosi figli, Nathan, Gabriele e Noah Tullia. David Parenzo ha però anche un'altra figlia, Margherita, nata da una precedente relazione. Abbiamo costruito insieme affetti solidi. Ci chiamiamo marito e moglie anche se non siamo sposati e con la mia ex i rapporti sono ottimi, ha raccontato proprio David Parenzo al Corriere della Sera. Natania allenisce il mio egocentrismo. Quando torno a casa, gasato per una bella intervista, mi fa, ok, ora butta la spazzatura. La famiglia attualmente vive a Roma e, trattandosi di persone molto riservato, sulla loro vita privata non si hanno altre informazioni. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.